La pisca del tonno nei mari prospiciente della penisola non raggiunge oggi risultati soddisfacenti specie per le caratteristiche Sei un porco, un disgraziato Ma che sei impazzita, ti giuro Elena, la devi credere Ieri sera sono andato con Pasquale Pasquale? Pasquale e io cugino siamo andati a radio al gira, insieme E che film avete visto? Abbiamo visto i travolti del mare azzurro Ah, i travolti del mare azzurro Il solito destino dell'azzurro mare da cosa E perché tu sei tornato alle due? Perché Pasquale è voluto andare a cera Sai, dopo due anni di carcere aveva bisogno di stare un po' in mezzo alla gente Certo, in che ristorante voi siete stati? A Coso, a Trastevere Ah, a Trastevere, da chi? Da quello famoso, il boia E che vi avete mangiato? Le solite cose E l'encale L'antipasto, il solito affettato, insomma Il solito affettato, e per primo? Per primo ho mangiato le tagliatelle, quelle alle bolognese Le tagliatelle alla bolognese, per secondo? Secondo il pollo, il solito pollo Che parte del pollo, quale contorno e quale dessert? Lara, i finocchi al gratte, poi per dolce la torta a margherita Ma adesso tesoro, su, facciamo la pace Non s'avvicinare per l'amor di Dio Prima devo controllare con Pasquale Sì, la Pasquale, chissà quando lo vedi Ma Momento, che vado io Abbiamo già dato, eh? Chi era? Ah, niente, era la Croce Rossa Sì, la Croce Rossa Ah, caro Pasquale O che tu ti sei fatto nel naso? O che tu ti sei fatto Allora ce ne andiamo al cinema, eh? Ah, ce ne andiamo al cinema? Meno male, ma, saranno due anni che non vedo il cinema Ci siamo andati ieri sera al cinema Non ti ricordi? Abbiamo parlato anche di quel lavoro al garage Ah, sì, sì, adesso mi ricordo Siamo stati ieri sera al cinema Vieni, vieni, accomodati Grazie Vedo che avete fatto Baldoria, eh? Sì, una sfuriata Una sfuriata tua Lo vedete che indovino? Tu li tiravi e lui li beccava qua, eh? Allora Allora Dunque, che film avete visto ieri sera? Oh Ah, Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto 1974 79 minuti di durata Italia Technicolor Panavision Stereo Vuoi sapere anche il titolo di coda? No, non c'è bisogno, grazie Eh Eh, ma Avete già mangiato voi? Sì, sì, ma ci vediamo domani A proposito No, 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 a proposito Dove siete stati a cena ieri sera? Eh Dove siamo stati a cena ieri sera? Eh Siamo stati al ristorante ovviamente Ah, questo lo so Scusa, non mi vorrei sbagliare Ma sento che qualcuno me la sta attirando Senti, ma tu sei il rispetto che ho sempre avuto per te io Tu la meno qua me l'hai messa tu Non è che io Lontano da me ogni... Eh, meglio chiarire Meglio così Allora, io vorrei sapere In quale ristorante Vussi e testati? Oh, vussi e testati siamo io e te Sì Un momento che mi ricordo Dunque, ah, c'era un passaggio a livello Questo me lo ricordo No, 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 vicino al ristorante C'era un passaggio a livello che... No, non c'era un passaggio a livello C'era dunque Ah, una mazzetta che abbiamo preso Guarda Non si può più andare nei ristoranti Non ti danno neanche la ricevuta fiscale Ti danno certe... niente Eh Ah, è un ristorante in cappuccetti Cus Cus Clan Perché c'erano tutti gli occhialetti Tipo setta segreta No, neanche quello Sì, poi facevo un caldo di prurito Che avevamo addosso E la bolla... con l'accetta Aspetta che mi ricordo perché Il boia... il boia a Trastevere Il boia a Trastevere Io... e di... oh E il boia di Trastevere E che vi avete preso? E che vi avete preso? L'antipasto Zitto tu Zitto, se lo devo dire io, Gaetano Scuso Quale l'antipasto? Quale l'antipasto, mo? Prosciutta e melone Non c'era quello, non c'era, figura C'era invece il coso che... Ah, ci siamo lavate le vene perché è un ristorante scicchissimo Ah, i dendi pure Fatti i gargarismi Perché ti danno loro lo spazzolino È un ristorante di pazzi Ti danno lo spazzolino, i dentifricci e l'affrettato Affrettato Abbiamo mangiato affrettato perché lì i tavoli La gente... devi prenotare un mese prima Affettato 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 Salame e prosciutto affettato Affettato, salame e prosciutto E per primo? Per... boh Per primo, no? Perché per primo si mangia il primo e poi si mangia le cose Ah Mel che non mi ricordo C'è una disgrazia Che l'è successo? Il cuoco, povero disgrazzetto Non si è tagliato un dito mentre preparava No, la meno si è tagliato proprio tutto Il braccio, tutto il braccio è spaccato il sangue C'aveva un coltello così, povero disgrazzetto Tutti a piangere i clienti Disgrazzetto, padre di famiglia Ah, sì, l'abbiamo portata a mano all'ospedale Manca l'ambulanza c'era, avevano scioperato tutto quel giorno E poi ci hanno fatto l'operazione alla gola Le tonzille che le tagliate... 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 Tagliatelle! Perché fai... Tagliatelle, tagliatelle E per secondo? Il secondo Con calma Voi state a fare un interrogatore di terzo grade, Marisa? Sì Io mi devo ricordare pure il secondo C'è un caldo, guarda, è terribile qua dentro Il secondo... I dendi un'altra volta Perché lì ogni tre minuti ti devi lavare i dendi È un obbligo, una fissazione Stai da tendi E... Ah, il pollo Abbiamo mangiato un pollo perché... E il mio marito? Che ha preso il mio marito? Il tuo marito che ha preso? Il tuo marito ha preso... Ah, l'aereo Il tuo marito ha preso l'aereo No, aspetta un momento L'aereo Ha preso l'aereo perché il padrone, un pilota dell'Alitalia È un pazzo Allora ti fa fare un giro in aeroplano Tu digerisci Che parte del pollo l'ha preso? La parte del pollo che ha preso il tuo marito O che parte di pollo tu l'ha preso? Non fare lo spiritoso Ah Lala, lala Lala Tu, e lui? Il motore, direttamente Il motore La coscia La coscia? Ma l'ho detto il motore perché... Per contorno, no, per contorno, per contorno Pas che non ti ghezzi però, Maris, perché io mi devo ricordare Non è che io ce l'ho tutte sulla punta della vita Per contorno Per contorno, oh, il condorno Che il condorno, ah, puro mi devo ricordare I condorno erano tanti che andavano tutti... Sì, questo l'avevo sempre pensato Io da quando era ragazza avevo queste tendenze Giocavo con le bambole Brutto com'è, giocavo con le bambole Eh, sì, erano... Questo è un locale frequentato da gay No, andravano tutti gay Due, due gay Anzi, tre, quattro, mi dico Una flotta di gay Che sono entrati nel locale Che... Finocchi Finocchi gay Finocchi I finocchi Vuoi vedere che... I finocchi E meno male che io Per dolce? Eh? E per dolce? Oh Il dolce, mo, quelle... Lì c'hanno... Guarda che io sono buone care Non esageriamo Non è che io poi... Perdo la... Eh? Ah, sì Li fanno il dolce Ricamato a meno proprio Perché la padrona È una ex ricamatrice di Firenze No Senti, Marisa Non darebbe Ma io mi devo ricordare Perché la... Ma cosa Oh, abbiamo sfogliato Ah, sì Adesso mi sono ricordato Dunque, questo Il padrone C'ha i polli Lo spande Allora, gli dà un omaggio A ogni cliente Un bollo E tu lo spenni da solo Con la... Crudo No È mare È una torta di mare Una torta di mare Era una torta di mare Questo me lo ricordo Perché metto le vongole veraci Sopra la torta È una novità Le vongole di marmo Marmo? Marmo No, di mare, marmo Mare e marmo Fanno insieme Sai quelle cose tipo Paglia e fieno Fanno mare e marmo E mettono le vongole veraci L'alimo acidua maledetta A me che mi sono messo in mezzo A questo casino maledetto Che io non la volevo la torta E gli dicevo Non la voglio E tutti i pesci Che salgono a galla Con la torta di pelle di pollo E mentre tutti questi pesci Sono venuti In questa maledetta torta Tutti quanti clienti sono entrati Che erano tutti clienti ricchioni E c'era pure il proprietario Che era ricchione Ma il più ricchione Di tutto il tuo marito Di disgraziato delinquente Sì perché siamo là quattro ore A parlare di mangiare Di tagliatelle Di pollo E di cosce Dell'ala E dei motore E io c'ho fame Sono due giorni che non mangio Io c'ho fame Io voglio mangiare